Buonasera al Maestro Coccia Buonasera Enzo Coccia Qui abbiamo una montanara che ci illustra il mitico Enzo Allora noi nell'ottocento Napoli contava 410 mila abitanti Due terzi si era nascita E' la generalità del popolo napoletano Acqua e farina nasce un gioiello di Napoli La montanara Ci sono due nomi che crescono Quanto come cresce? Di grammi? 30 grammi Non ci credi? 30 grammi 30 grammi? Toccate per vedere La qualità Guarda quant'è un Enzo Aria fresca Complimenti io la provo Aspetta però ci sta pure il pomodorino del Piennolo Che è un pomodorino che nasce a 500 metri all'altezza del mare Senza acqua E' l'unico pomodorino che trovi pure con i poveri sebbio Bene Lo raccogli ad agosto e lo trovi fino a dicembre E fai pure lo spaghetto a poco non ce la montanara E allora E da assaggiare E da assaggiare Buon signore il capo mancia una montanara Vai Vai Con città